Ciao ragazzi e bentornati in questa nuova recensione. Quest'oggi parlerò di un film di cui mi avete sentito parlare abbastanza spesso, soprattutto agli inizi del Top 10, quindi i fan di vecchia data si ricorderanno magari di avermi sentito citare forse un po' troppo spesso questo film. E il film in questione è Scott Pilgrim vs The World. Partiamo subito parlando di questo film del 2010 diretto da Edgar Wright, regista che io adoro e che è diventato famoso con la trilogia del cornetto e dopodiché ha realizzato anche Baby Driver, soprattutto, e ha scritto la sceneggiatura di Ant-Man che avrebbe dovuto dirigere, ma per divergenze artistiche non lo ha fatto. Quindi regista che ha già diretto un po' di film, secondo me anche molto interessanti. Poi abbiamo Ramona Flowers, interpretata da Mary Elizabeth Winstead, abbiamo Bril Larson, quindi Captain Marvel, Chris Evans, quindi Captain America e la Torcia Umana e Brandon Routh che fu Superman e un altro personaggio, lo so, però non so come si chiama il supereroe Atom. Nel cast ci sono anche Anna Kendrick e Jason Schwarzman e anche e soprattutto Kieran Culkin, il cugino di Macaulay Culkin, che fra l'altro ha interpretato il cugino di Macaulay Culkin all'interno di Home Alone, ma hanno perso l'aereo, faceva Freuler, se non ricordo male. Il cugino che si piscia a letto dopo aver bevuto la Coca-Cola. Un cast piuttosto interessante, quindi. Il film visto una prima volta forse lo troverete addirittura assurdo, perché un pochino lo è. La trama è la seguente. Scott Pilgrim si innamora di Ramona Flowers, con cui riuscirà a mettersi insieme, ma per poter vivere felici e contenti dovrà affrontare i suoi sette malvaggi ex. E due dei sette malvaggi ex sono per l'appunto Chris Evans e Brandon Routh. Brandon Routh, ragazzi, ve lo giuro, il suo personaggio è... Mi giuro, è il mio preferito. E i vari personaggi di questo film hanno la peculiarità di essere ipercaratterizzati. Prendono delle sfaccettature della persona comune, come il nerd, quello che canticchia le canzoni senza sapere i testi, il vegano, lo sportivo e via discorrendo. E tutti quanti quindi troveremo sicuramente un personaggio con cui un pochino immedesimarci o riconoscerci e di cui rideremo a crepapelle. Altra assurdità di questo film sono gli effetti visivi. Questo film, secondo me, è il primo film con effetti visivi cartoon riuscito. Non so se ce ne sono altri, forse sì, ma contiene degli effetti visivi realizzati in modo non fotorealistico. Cioè, si vede che hanno un effetto un po' fumettistico o addirittura da videogame. Ci sono tantissimi riferimenti, come il personaggio protagonista che sale di livello, quando fa fuori qualcuno, cascano i coin. Ci sono tutta una serie di omaggi veramente interessanti e le gag sono qualcosa di fantastico. Perché non passano solo dalla caratterizzazione del personaggio o da delle semplici battute, ma anche attraverso le grafiche stesse. Gli effetti visivi costituiscono spesso delle gag all'interno di altre gag. In un certo senso, nella top ten dei migliori cinecomics andava citato, ma l'ho citato talmente tante volte in passato che ho preferito non inserirlo, ma questo film è adorabile. Secondo me potrebbe addirittura diventare un cult del genere. Piccola curiosità che ho scoperto un po' di giorni fa, c'è anche il tocco di Tarantino all'interno di questo film. Edgar Wright è un grande suo amico e Kent indiede un consiglio per quanto riguarda l'inizio del film. Inizialmente doveva iniziare con dei titoli di testa e basta, invece lui gli ha suggerito di iniziare prima con una scena per introdurre un po' i personaggi e poi di partire con la sequenza di titoli di testa. E così il film ha fatto. E fra l'altro Tarantino è uno dei più grandi estimatori di Edgar Wright, che secondo me avrà qualcosa da dire importante nel panorama cinematografico in futuro. Spero avrà la possibilità di dirigere altre pellicole, perché quelle che ha girato fino ad ora mi piacciono veramente, veramente tanto. Sapete che c'è, cambia un pochino anche la luce, la faccio rossa. Ah, poi un punto in comune che c'è nei vari film di Edgar Wright, ma soprattutto con Baby Driver, che penso sarà quello forse più visto, non lo so, è la musica. Una delle protagoniste principali di questo film è la musica. Fra l'altro il protagonista Scott Pilgrim è il bassista di una band, che fra l'altro parte della trama va avanti, proprio grazie al fatto che la band deve fare dei concerti durante il corso del film, con cui succederanno cose di cui non voglio parlare, ma insomma il film è estremamente interessante, oltre al fatto che anche attraverso la musica si faranno delle gag veramente... I combattimenti di questo film, fra l'altro, sono estremamente ben coreografati e variegati, cioè i vari combattimenti che si ripanano nel corso di tutto il film sono sempre unici e mai uguali a loro stessi, con delle peculiarità di volta in volta, che vanno un pochino anche a creare... E un'altra cosa di questo film sono i combattimenti estremamente ben coreografati e curati da una regia che non lascia mai nulla al caso e che ti permette sempre di avere il quadro generale di tutto quello che sta succedendo. Non facile, e ogni singolo combattimento ha delle peculiarità uniche, cioè non ci ritroveremo mai ad avere... Non ci ritroveremo mai ad avere due volte lo stesso combattimento, perché di volta in volta il combattimento prenderà delle pieghe anche in base all'avversario che Scott Pilgrim dovrà affrontare. Se non avete visto questo film, fatelo, vi lascio il link qui sotto per acquistarlo su Amazon e Blu-ray. Per chi l'avesse visto, fatemi sapere che ne pensate senza spoilerare, mi raccomando, oppure fate spoiler con la classica cosa per nascondere il testo. E ragazzi, ci vediamo presto con un altro video o un'altra recensione. YouTube!